Presidio con sciopero di otto ore questa mattina davanti alla Betafence di Tortoreto. Gli operai si sono fermati per protestare contro il nulla di fatto del tavolo operativo che si è riunito nei giorni scorsi alla presenza del sottosegretario Todde al Ministero dello Sviluppo Economico e che ha visto la conferma dell'interruzione di alcune linee di produzione e senza neppure un nuovo piano industriale. Altri scioperi sono previsti nei prossimi giorni. Oggi siamo qui, tutti i lavoratori presenti davanti alla Betafence è un nostro giorno di contestazione tutta la giornata sciopero per come sono andate le cose venerdì all'incontro al Ministero dello Sviluppo dell'Economia che in pratica abbiamo perso un tavolo e chiediamo, stiamo a chiedere oggi che questo tavolo venga riaperto perché comunque non può passarci questa patata bollente a noi. È una situazione veramente critica e quindi con l'aiuto anche delle istituzioni speriamo di riaprire questo tavolo perché comunque che la trattativa vada avanti. Siamo speranzosi, forse è esagerato, ma comunque vogliamo crederci fino all'ultimo. non indietreggeremo, siamo sempre qui presenti in settimana, organizzeremo altri scioperi e purtroppo è una triste realtà che stiamo vivendo tutti i lavoratori della Betafence.